Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, politica al centro di questa trasmissione speciale, particolare perché è realizzata in sinergia con il quotidiano Il Centro, il cui direttore Luca Telese è ospite in studio insieme a me per intervistare il Presidente della Regione Marco Marsilio. Buonasera a entrambi, buonasera Telese. Buonasera, buonasera. E buonasera al Presidente Marsilio che ringraziamo particolarmente perché insomma periodicamente ci viene a trovare per fare il punto sulla vita della Regione. Naturalmente domani ci sarà ampio spazio anche sul quotidiano d'Abruzzo rispetto a questa intervista particolarmente attesa. È la prima volta che Luca Telese arriva nei nostri studi, quindi gli diamo il benvenuto da collega, gli diamo il benvenuto da uomo di televisione che sicuramente animerà questa conversazione. Che io apro naturalmente stando sulla notizia delle ultime ore, che non è una notizia banale per una Regione come l'Abruzzo, l'avere ospitato il G7 sviluppo con i grandi della terra a Pescara, all'Aurum. Penso che non soltanto dal punto di vista, tra virgolette, coreografico, ma anche dal punto di vista della sostanza politica siano venute fuori, Presidente Marsilio, indicazioni importanti in uno scenario di pace da cercare. Il tema dello sviluppo è stato quello su cui magari anche interlocutori che sono in conflitto tra di loro hanno trovato proprio a Pescara una convergenza. È stato un gran bell'appuntamento. Io spero peraltro che l'Abruzzo possa abituarsi sempre di più ad essere scenario di eventi nazionali e internazionali. È quello che stiamo cercando di fare e ci stiamo anche riuscendo. Ringrazio il Ministero degli Esteri per aver scelto Pescara come luogo di incontro dove sono accaduti dei fatti molto importanti per i quali siamo stati ringraziati da tutte le più grandi nazioni democratiche del mondo ieri presenti, in particolare aver visto intorno al tavolo, mentre purtroppo imperversa la guerra in Medio Oriente, vedere riuniti intorno allo stesso tavolo un ministro libanese, un ministro israeliano, un rappresentante dell'autorità nazionale palestinese, aver potuto dare dalla platea di Pescara la notizia della partenza da Genova, del carico di aiuti umanitari per Gaza e così via. Insomma è un gran bel passo verso un dialogo che io spero possa portare alla pacificazione di quei territori o quantomeno a una tregua che consenta di alleviare le sofferenze della popolazione civile. Allora direttore Telese, lei continua a scoprire un po' l'Abruzzo in tutti i suoi menandri, ce lo aiuta a... Ci fa scoprire anche con gli occhi di chi ci guarda, spesso si dice che certi territori andrebbero governati, non me ne voglio il presidente Marsiglio, da un marziano che viene da fuori e capisce subito qual è la caratteristica di un luogo e anche le problematiche di una terra, come quella che sta scoprendo giorno per giorno Luca Telese. Tanti approfondimenti nelle prime copie del centro da lui firmate, sicuramente tanti motivi penso di spunto anche da sottoporre all'attenzione del presidente. Sì, è un territorio che ha una complessità veramente orogenetica, storica e anche una ricchezza, però per questi motivi è anche difficile da gestire. Quindi io vorrei partire da un tema che ci ha molto appassionato, abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando il traforo del Gran Sasso è stato riaperto, però sappiamo che incombono molti interrogativi. Il più importante è capire come due diverse autorità che insistono nella gestione della galleria vorranno intervenire nei prossimi giorni, mesi, anni per risolvere i problemi che si sono posti di sicurezza o di impermeabilità della struttura per semplificare. Dunque c'è un commissario che si occupa della parte autostradale, ce n'è un altro che si occupa per semplificare della questione idrica, entrambi vogliono fare degli interventi, questi interventi però devono essere ancora delimitati con precisione e soprattutto anche integrati fra di loro. Presidente Marsilio, lei che si trova a dover coordinare perché l'autorità politica ha questa funzione, non teme che si possa riprodurre la situazione che abbiamo visto con l'Abruzzo diviso in due? Ma il timore è forte, purtroppo c'è anche una fondatezza di questo timore, nel senso che bisogna preparare i cittadini all'idea che per mettere in sicurezza il traforo e garantirne la futura percorribilità in tutta sicurezza, comprendendo nella sicurezza innanzitutto e prima di tutto l'acqua potabile che viene raccolta sotto la montagna è distribuita in mezzo Abruzzo, circa 6-700 mila utenze tra l'Aguile e Teramo vengono dissetate dall'acqua del Gran Sasso. È intervenuta la magistratura negli anni passati, io all'inizio del 2019 quando vinsi le elezioni mi trovai con l'incombente minaccia di chiusura e di sequestro del traforo da parte della Procura della Repubblica di Teramo. Inchiesta e processo ancora in corso, che ha messo sotto processo i vertici dei laboratori e dell'Istituto di Fisica Nucleare, dell'autostrada e di tanti altri enti. Siamo intervenuti chiedendo e ottenendo dal governo all'epoca il ministro Eratoninelli la nomina di un commissario, lo stanziamento di 120 milioni come prima provvista per poter intervenire e fare i lavori che servono, perché all'inizio degli anni 2000 un altro intervento analogo con una scorta inferiore di soldi non ha risolto il problema e anzi poi erano nate quegli incidenti che hanno provocato l'inchiesta e il processo della magistratura. Quindi noi ci muoviamo in questo terreno minato. Nel frattempo c'è una normativa europea che impone di mettere in sicurezza le gallerie, per la quale siamo riusciti a ottenere la proroga di un anno e quindi si è potuto diluire e attendere ancora prima dell'apertura dei lavori, ma prima che scada questa proroga i lavori vanno fatti. Se nel frattempo il lavoro di messa in sicurezza idrica non riesce a individuare il bandolo della matassa per poter intervenire in maniera concreta, risolutiva ed efficace, il rischio che questi lavori abbiano un disallineamento temporale e il disagio di dover chiudere alternativamente l'una o l'altra canna diminuendo la percorribilità del traforo è molto forte. Quindi ora siamo in attesa di capire dai tecnici, dal commissario Caputi innanzitutto, dopo quell'incidente che abbiamo fermato prima ancora che cominciassero i lavori di sondaggi geologici all'interno delle gallerie, quale soluzione, quale strada, quale diversa soluzione progettuale, se sarà diversa verrà intrapresa. Attendiamo anche che la Ruzzoreti ci chiarisca sempre che sia possibile, perché non sempre accade di riuscire a trovare magari la soluzione a un problema che è nato, perché l'acqua è diventata torbida in quel tale giorno, in quel tale momento e che ha portato quindi alla sospensione dei lavori. La percorribilità del traforo, noi dal punto di vista della Regione abbiamo sempre cercato di mantenere la massima percorribilità possibile, chiedendo anche la possibilità di farlo percorrere quando si deve chiudere una delle due canne per farvi i lavori dentro, di lasciare la percorrenza a doppio senso, non alternato, ma a doppio senso nell'altra canna. Ma lì c'è una complicazione, perché una delle due ha anche la corsia di entrata e di uscita, quindi con la decelerazione e accelerazione in missione dei laboratori, e quindi ci sono delle ragioni di sicurezza che hanno portato le autorità competenti sul tema della sicurezza stradale fino ad oggi a chiedere il doppio senso alternato, che provoca, come abbiamo visto con il semaforo, dei rallentamenti importanti. Devo dire però che a volte si esagerano i toni, nel senso che è vero che c'è un disagio, questo si manifesta principalmente nell'ora di punta, bisogna però anche comprendere che il disagio vero sarebbe non avere un traforo a norma, non averlo in sicurezza, dover subire per mancanza di interventi un'autorità superiore, magari la magistratura o altro, che ti imponga poi una chiusura per ragioni di sicurezza o che metta a rischio anche la salubrità dell'acqua che viene immessa nei nostri acquadotti. Che però voglio cogliere l'occasione per ribadire, gli acquadotti sia della Gran Sasso Acqua che della Ruzzo Redi sono probabilmente gli acquadotti più sicuri d'Italia e tra i più sicuri del mondo, perché hanno un sistema così sofisticato di analisi, ricerca e monitoraggio e di anche pronto intervento, come è stato dimostrato nel recente caso, in cui l'acqua torbida non è mai finita dentro l'acquadotto per essere distribuita, è andata subito a scarico, si è subito intervenuto in regime applicando il protocollo di sicurezza e quindi l'acqua che arriva negli utenti delle province di L'Aquila e Teramo è tra le più pure, sicure e controllate del mondo intero. Questo lo voglio dire perché troppo spesso si rischia di dare un'idea, una comunicazione distorta, secondo la quale io ancora trovo tanta gente in quel territorio che pensa o che ha paura di aver bevuto, di continuare a bere acqua inquinata e acqua che fa male alla salute. Non è vero, questo va ribadito perché il sistema di controllo messo in campo in questi anni è tra i più elevati e sofisticati che la tecnologia ci mette a disposizione. Allora approfittiamo di questo spazio anche per informare, noi del centro abbiamo fatto una cosa semplice, siamo andati a cercare il geologo che probabilmente uno dei geologi che da più tempo studia quella montagna, siamo andati a cercare l'ingegner Morelli, lo avete trovato sul giornale di oggi, che fu il perito nel 2002 quando ci fu lo sversamento, quello molto più grave del benzene. Queste persone che hanno studiato quelle carte, la genesi del tunnel, dicono attenzione perché lì è un ecosistema, diciamo c'è un laboratorio, c'è il viadotto, c'è la falda ed erano tre elementi di cui non era prevista la compresenza. Il laboratorio nacque dopo le canne dell'autostrada, l'acquedotto nacque pensando genialmente di recuperare le acque che altrimenti sarebbero state perse e allora dice attenzione perché toccare qualunque cosa, rompere questo equilibrio che si è creato in mezzo secolo può creare dei problemi. Allora le voglio chiedere, lei come si comporta? Cioè riunisce, sente, fa monitoraggio? Bisogna marcarli un po' stretti perché sennò c'è il rischio che ogni volta che arriva qualcuno dice ricomincia da capo, magari non conosce. Hai ragione direttore, è esattamente così, io per legge sono tenuto a riunire almeno ogni sei mesi per fare poi una relazione al governo, è tutto pubblicato sul sito del commissario per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il commissario con tutti gli enti coinvolti, comprese le amministrazioni locali, le due province, le due capoluoghi e due sindaci dei comuni, dei rispettivi versanti in rappresentanza degli altri comuni, l'ASL e tutti i ministeri coinvolti nel sistema dell'acquifero del Gran Sasso, il parco nazionale, insomma è un numero molto importante di realtà, è una vicenda appunto molto molto complessa e queste riunioni servono esattamente a fare cabina di regia, a mettere il commissario in condizione di fare il resoconto e la relazione dell'attività portata avanti fino a quel momento e confrontarsi con tutti gli enti interessati per affrontare le criticità, i dubbi, trovare soluzioni, quindi è un lavoro che viene fatto costantemente e periodicamente, non abbiamo mai mancato all'appuntamento di ottemperare a questo obbligo di legge ed è una fatica doverosa per far camminare tutti insieme delle cose che, come dici tu, nessuno aveva previsto che lì sotto ci fosse tanta acqua in quella dimensione, la scoperta fu anche tragica perché morirono diversi operai, insomma fu un evento luttuoso, poi mentre si costruiva la galleria, la geniale intuizione di Zichichi e di altri scienziati portò a dire, ma perché non scaviamo ancora e non facciamo i laboratori negli anni 80, tu immagina se oggi qualcuno… Già che ci siamo facciamo un laboratorio. Già che ci siamo facciamo un laboratorio lo ricoveravano con l'UPS, però grazie a Dio all'epoca questa cosa si fa. L'acqua che allora era una minaccia per chi lavorava diventò una risorsa… Diventò una grande risorsa per un territorio che all'epoca non aveva acqua, le frazioni montane del territorio aguilano e teramano erano senza acqua potabile, senza acqua diretta, quindi comunque poi non parliamo del beneficio del collegamento diretto che permette dall'Aquila a Teramo di arrivarci in mezz'ora, un percorso che attraversando la montagna ci mette il doppio o il triplo del tempo. Quindi questa opera che però ha norma di legge, poi le leggi successive, soprattutto quelle di tutela ambientale, hanno comportato dei limiti che producono una coesistenza impossibile. Ci dicono una cosa molto simile a quello che ha detto lei, se non ci sono eventi catatismatici, drammatici, segnali di allarme, il monitoraggio che consente di intervenire in tempo reale è già una garanzia di riduzione del rischio. Lei in questo punto di vista lo condivide? Sotto questo profilo sì, però nessuno può escludere che invece l'evento possa prodursi e creare un danno importante. Per questa ragione io credo che sia stato utile costituire il commissariato, mettere in condizione qualcuno anche di superare con qualche deroga una rigida di steccati normativi che renderebbero dal punto di vista teorico impossibile gestire contemporaneamente tutti e tre gli esercizi, perché a norma di legge noi oggi per captare quelle acque dovremmo chiudere l'autostrada e i laboratori o almeno una delle due attività. Non lo facciamo, però questo è un problema, è un problema che qualcuno deve affrontare, lo stiamo affrontando di petto, non è facile risolverlo. Il precedente commissario, fino allo scorso anno, c'era un altro commissario, la principale attività che ha fatto è stata quella di fare una ricognizione. Abbiamo riprodotto su supporto in ambiente BIM, è un tecnicismo per dire come oggi, all'epoca non c'erano questi strumenti, questi software e questi programmi di restituzione tridimensionale di un manufatto, è stato proprio quello di andare con le telecamere, con le ispezioni, a rivedere dove stanno tutti i tombini, tutti gli accessi, tutte le canale, gli scoli e cercare così di ricostruire su un patrimonio di conoscenza più completo qual è il sistema acquifero, come si distribuisce l'acqua e quindi cercare di capire meglio quali sono i punti di criticità su cui intervenire. Ora siamo alla fase successiva, quella che una volta finito di avere, speriamo che sia finito, l'acquisizione di un sufficiente patrimonio conoscitivo di come è fatto e di come si muove quel sistema, intervenire per la sua definitiva messa in sicurezza. Io poi su questo naturalmente mi astengo dal dare giudizi perché non sono ingegnere e anche tra ingegneri le opinioni possono discordare, il che non rende facile poi il nostro ruolo, però penso che sia giusto e corretto dare fiducia ai tecnici che sono pagati per questo, che hanno questo impegno e questa missione e mi attendo dal commissario Caputi a cui confermo e rinnovo al massimo supporto come feci con il suo predecessore Corrado Gisonni perché si possa arrivare appunto a una condivisione del progetto, a una chiarificazione degli obiettivi e delle strade per raggiungere un obiettivo che io credo tutti condividano, quello di rendere al 100% sicuro l'approvvigionamento idrico, al 100% sicura l'attività di laboratori che ci invidi a tutto il mondo e che dobbiamo assolutamente preservare, non possiamo correre il rischio di farli scappare perché c'è anche questa possibilità che possano scappare dal Gran Sasso per andare in altre parti del mondo dove magari della sicurezza ambientale se ne importano molto di meno che non in Italia e che possa continuare l'autostrada ad essere esercitata in condizioni di piena sicurezza e rispondenza alle norme. A proposito di scappare dall'Abruzzo, Presidente le faccio un'altra domanda e gliela faccio anche in maniera brutale perché è un tema di grande preoccupazione per gli abruzzesi in queste ultime settimane che lei ha peraltro seguito anche in sede europea. C'è il rischio che si ridimensioni e addirittura arrivi a licenziare la più grande fabbrica di questa regione? Soprattutto c'è anche il rischio che poi Tavares possa prendere come scusa il fatto che in Abruzzo non ha trovato più le condizioni che aveva richiesto? Come dice lei, semmai sarebbe una scusa visto che l'Abruzzo sta spendendo decine di milioni per attrezzare le piattaforme logistiche, i lavori sono in corso su tutti e due i principali porti in cui Stellantis si approvvigiona di materie prime da cui partono, lo stesso sta avvenendo per la ferrovia, il sistema cargo e così via. Quindi noi abbiamo fatto, stiamo facendo e continueremo a fare quello che è nostro dovere per rendere il territorio fertile dal punto di vista degli insediamenti industriali. Il problema vero è che oggi nessuno compra più quelle macchine e non è più un problema solo di Stellantis, quindi non ci si interroga più soltanto sulla capacità di Stellantis di stare sul mercato, se la Fiat fa modelli accattivanti o meno per il mercato, perché tutta l'industria automobilistica sta subendo un grave contraccolpo dalle decisioni prese a Bruxelles sugli obiettivi del Green Deal e io mi sono fatto carico proprio perché sono un sensore del territorio e ho ascoltato gli allarmi che provengono dalle nostre fabbriche, da tutta la filiera produttiva e a Bruxelles come relatore di un parere sulla transizione giusta nel Comitato delle Regioni, ho chiesto al Parlamento e alla Commissione di modificare quel percorso, di anticipare al 2025 la revisione del percorso e degli obiettivi del Green Deal, di dire che non c'è soltanto l'alimentazione a batterie elettriche nel futuro dell'automobile, ma si può arrivare alla decarbonizzazione investendo su idrogeno, biocarburanti, carburanti sintetici, quindi altre tecnologie che magari rendendo compatibili i motori endotermici salva anche gran parte della filiera che viene invece oggi spazzata via da un'accelerazione improvvisa verso una tecnologia della quale l'Europa non è proprietaria, non è nemmeno tra le principali, quindi ci spiazza il nostro mercato. Ora quando vediamo che Volkswagen minaccia di chiudere le fabbriche in Germania, non le fabbriche all'estero ma le fabbriche nel suo paese di origine, cosa mai è avvenuta prima? Che a Bruxelles la città viene bloccata dal corteo di migliaia di operai dell'Audi che sta chiudendo e va chiudendo anche lì un'altra fabbrica, non ci possiamo meravigliare se gli operai metalmeccanici facciano altrettanti cortei in Italia per la crisi di Stellantis, oggi l'Abruzzo è un po' paradossale raccontarlo, è la regione italiana che produce più veicoli, siamo diventati capofila dell'industria dell'automobile, tutti pensano quando si parla dell'industria delle fabbriche dell'automobile da Fiori che invece è in cassa integrazione da 17 anni. Però ora siamo anche noi con la cassa integrazione che dura ormai da settimane, questo non era mai accaduto, c'è una contrazione anche della produzione di furgoni che avevano resistito nell'epoca del Covid con l'esplosione della logistica, dei camper con la fabbrica vicina della Tricano che aveva moltiplicato vendito e fatturato e che poi ha subito anch'essa l'ondata di piena e poi si è di nuovo abbassata e quindi non regge più gli stessi livelli produttivi. Quindi io credo che vada data una risposta di sistema che vada data a livello europeo ridando al respiro all'industria automobilistica dare tempi più compatibili con la capacità di trasformazione e di assorbimento di queste trasformazioni, altrimenti rischiamo davvero grosso e io credo che la regione Abruzzo stia facendo tutto quello che è in suo potere, sia dal punto di vista delle infrastrutture da realizzare, sia dal punto di vista dell'azione politica che io condivido fortemente con il ministro Urso che ha il pregio di essere stato l'unico ministro, non è ricordo precedenti, sicuramente non quelli con cui ho dovuto collaborare nei cinque anni precedenti, che ha riunito più volte al Mimit Stellantis con i sindacati, con le associazioni di categoria e con le regioni che non erano mai state chiamate prima al tavolo del ministero per costruire insieme un progetto di sviluppo e di rilancio dell'industria dell'automobile. Certo uno sforzo che si vanifica se, ripeto, c'è un contesto mondiale europeo in cui tutti stanno in crisi, evidentemente anche al consumatore finale è stato dato un messaggio di incertezza tale che sconsiglia oggi le persone a non cambiare la macchina se non strettamente necessario. Tutto giusto, però c'è un tema in Francia, visto che la proprietà di questo gruppo Stellantis è teoricamente a cavallo tra Francia, Italia e mondo, in Francia lo Stato francese ha un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, ogni volta che si parla di un impianto che è ubicato sul territorio francese questo signore alza la mano legittimamente dal suo punto di vista e dice no, quello non si tocca perché è una priorità nazionale. Il nostro problema dunque, oltre all'ottimo lavoro di Urso, anche il fatto che abbia aperto la possibilità di avere un concorrente sul territorio nazionale e che non è in quella sede con un potere diciamo aziendale e quindi il tema è, voi che interlocuzione avete avuto con i vertici? Cioè Tavares è un muro chiuso, non parla, non dialoga nella sostanza sui numeri e sulla prospettiva delle fabbriche che sono in Abruzzo? No, intanto dico anche io che è tutto giusto quello che dici, il problema è che quando si fece la fusione con la nascita di Stellantis, mentre il governo francese dell'epoca si preoccupò di presidiare una fabbrica così importante per la propria economia nazionale e mantenne una quota e una presenza nel Consiglio di amministrazione, il governo italiano dell'epoca non lo fece e oggi non c'è quasi possibile di rimedio a questo errore iniziale e quindi quando la fabbrica, quando l'azienda Stellantis magari va in crisi e deve fare delle scelte dolorose è più facile che questi tagli caschino in Italia che non in Francia, è evidente che la Francia è più tutelata, questo è quello che naturalmente alla famiglia Elcana, i principali soci azionisti di Stellantis e la politica italiana, il governo in testa chiede e rimprovera Ha provato a chiamare Elcana? No, io ho interloquito con Tavares, ci siamo scritti più volte, è stata anche risposte tempestive cordiali e rassicuranti, il problema vero è che per quanto possano rassicurare dire che la Tessa per noi è centrale, noi continueremo ad investire, non abbiamo nessuna intenzione di dismettere eccetera eccetera Non è che non ci credo, il problema è oggettivo, se poi nei concessionari il furgone non si vende, qui oggi abbiamo un problema molto più grave, non voglio fare allarmismo perché io al contrario, penso che sia anche doveroso nella mia posizione, cerco di dare notizie positive, confortanti, di rassicurare il mercato perché credo che dare fiducia aiuti l'economia quindi non è compito della politica fare ingiustificato allarmismo, però noi non siamo di fronte a una situazione in cui Stellantis più o meno produce le stesse cose ma ha trasferito la produzione altrove e allora ci preoccupiamo di recuperarla, noi siamo in una condizione in cui non si vendono più i furgoni ed inevitabilmente tutta Stellantis cede Sì, anche se un anno e mezzo fa c'è una liste d'attesa, se uno voleva un furgone doveva accendere un cero, quindi un grande gruppo sa gestire le oscillazioni di mercato, quell'impressione che mangi una volontà strategica. Quando scendono del 10, del 20 o del 30% è inevitabile che tiri la cinghia, ora sarebbe grave se magari a fronte di una ripresa vedessimo che so, la fabbrica gemella polacca raddoppiare la produzione e quella di Atessa restare ferma Questo devo dire con onestà intellettuale non è accaduto, durante l'estate quando noi abbiamo subito la cassa integrazione e la riduzione di un turno, hanno tolto il turno notturno, a Glivice in Polonia per 15 giorni la fabbrica è stata totalmente chiusa, quindi da questo punto di vista è vero che c'è sempre questa preoccupazione, per alcuni quasi un incubo della fabbrica polacca che prima o poi soppianterà Atessa nelle previsioni più fosche che fanno alcuni ma ad oggi non abbiamo elementi oggettivi per poter dire che questo accade. Comunque registro che anche la fabbrica gemella di Glivice è stata costruita in epoca in cui c'erano altri a rappresentare l'Italia e la regione Abruzzo, non ricordo vibrate proteste nei confronti della loro Fiat per aver voluto costruire una fabbrica invece che magari raddoppiare e ampliare quella di Atessa. Non sarebbe interessante provare a sentire gli Elkan con un'interlocuzione diretta? Non escludo a dire anche questa strada di interlocuzione diretta con l'azionista piuttosto che con l'amministratore. Lui approfitterei del fatto che Marsilio è comunque un... Sperando di trovare il canale altrettanto disponibile al colloquio di quanto lo abbia dimostrato Tavares. Però abbiamo degli strumenti di pressione, anche di unione pubblica per aiutarlo a questa interlocuzione. Usciamo per un attimo dall'Abruzzo e Luca approfittiamo del fatto che Marsilio è un autorevolissimo esponente nazionale di Fratelli d'Italia. Gli chiediamo magari se avesse qualcuno da suggerire come prossimo capo di gabinetto a qualche suo amico Giulio. Giulio non ha bisogno del mio consiglio, è più bravo di me a fare il ministro della cultura e non a caso fa il ministro della cultura lui e non io. Bene, ma il capo di gabinetto? Se lo sceglie il ministro della cultura è una figura assolutamente di fiducia personale e quindi non mi permetto di giudicare le scelte anche perché non conosco, non posso giudicare l'attuale dimissionario capo di gabinetto perché non ho mai avuto l'occasione di sperimentarlo dal punto di vista lavorativo e quindi non ne conosco neanche. Sicuramente ritengo che Giulio abbia la libertà e il dovere di scegliere la persona con cui lavora meglio e con cui si sente meglio in grado di svolgere il proprio lavoro da ministro. Volevo chiedere una cosa, ogni anno ovviamente lo sappiamo il sistema sanitario di questa regione paga una bolletta, chiamiamola così, o un dazio enorme di mobilità esterna abruzzesi che sono costretti o vanno o scelgono al cosiddetto turismo sanitario. Tutto questo è già un sistema in grossa sofferenza, costa tantissimo. La domanda che avevo da fare è, ma tutto questo oggettivamente non rischia di essere accelerato drammaticamente dall'autonomia differenziata? Un suo collega, non certo un bolshevico, il presidente della regione Calabria che è di Forza Italia, occhiuto, ha detto quel modello non mi convince e potrebbe creare un grande danno al nostro sistema. Ma lei non ha lo stesso timore calcolando che appunto già ora i numeri sono questi? Il paradosso su quale potrei rispondere e rivoltare la frittata è che già ora ci sono squilibri tra nord e sud e non c'è l'autonomia differenziata, quindi non è l'autonomia differenziata che provoca questi squilibri. Noi abbiamo problemi di mobilità passiva perché ci sono delle regole anche che ci impediscono ad esempio di acquistare prestazioni sanitarie sul territorio in convenzione in ossegue non si sa quale pregiudizio ideologico perché siamo in piano di rientro e quindi i ministeri vigilanti, in particolare il MEF, il ministero dell'economia ci impedisce di fare questa manovra. Dopodiché quelle prestazioni che io non posso acquistare in Abruzzo, gli abruzzesi le vanno a chiedere in Emilia Romagna o in Lombardia o altrove e io le pago a piedi lista lo stesso, quindi non c'è stato nessun risparmio né per lo Stato né per l'Abruzzo, anzi molto probabilmente ed è un dossier che sto predisponendo anche per dimostrarlo carte alla mano a chi di dovere, quelle prestazioni che in Abruzzo avrei pagato X altrove magari postano più di X. Ma allora, avendo lei la fortuna di avere un telefono rosso con Giorgio Meloni, infatti è una delle tante regole che dobbiamo cambiare. Ma le ha mai parlato di questo problema? Io ne parlo con il ministro della salute, ne ho parlato con il ministro dell'economia, con il capo della ragioneria e ne parlo all'interno della conferenza delle regioni, perché poi sono le regioni che insieme si distribuiscono il fondo sanitario, stabiliscono insieme le regole, per questo l'autonomia non cambierà questo meccanismo, perché già c'è questo meccanismo. Io sono stato protagonista proprio nei giorni scorsi di un cambiamento radicale nel cosiddetto payback farmaceutico, dove ho dimostrato che una legge che il governo Conte introdusse dentro una legge di bilancio, senza alcuna condivisione e concertazione con la conferenza delle regioni, ha prodotto in quattro anni lo spostamento di 600 milioni di Euro verso la Lombardia, la perdita per l'Abruzzo di 80 milioni, di più o meno altrettanto per la Calabria e così via. Raccolte le carte e dimostrato in maniera incontrovertibile che si era creata questa iniquità secondo la quale chi aveva sforato la spesa farmaceutica oltre a pagarsi, come dice la legge, il proprio 50%, pagava pure il resto, perché quello che rimborsavano le aziende farmaceutiche andava alle regioni che non avevano sforato o che avevano sforato di meno e quindi ci guadagnavano. Sto dicendo una cosa francamente ingiustificabile. Noi, su mia iniziativa, le regioni hanno votato per la modifica di questo meccanismo iniziale unico e quindi le cose si possono raddrizzare. Ora mi riprometto di fare altrettanto puntando sul tema della mobilità passiva perché questa regola che impone alle regioni in piano di rientro di non poter acquistare le prestazioni dovendo costringere i propri cittadini ad andare altrove e pagarlo di più è una regola che non produce nessuna. Quindi noi arricchiamo il sistema sanitario per esempio della Lombardia costringendo le persone a spendere di più per andare quando dobbiamo restare in queste regioni. Peraltro con il paradosso che se poi interroghi le regioni che hanno la mobilità attiva si lamentano anche loro di questo sistema. Quindi dobbiamo indagare meglio il funzionamento di questo meccanismo. Ho avuto l'impressione che lei abbia un po' glissato quando le ho detto di rivolgersi direttamente alla Meloni. Le spiego perché siccome sappiamo che abbiamo un Presidente del Consiglio che quando si mette l'impegno su una cosa agisce... Perché è una battuta un po' banale premesso che io sono molto sobrio nell'abusare dell'amicizia personale con Giorgia perché mi rendo conto che si tratta di una persona che sta affrontando un'enormità di temi e di problemi. Quindi dove è possibile mi relaziono con le persone che hanno le dele che è di cui Giorgia si fida. Quindi se devo parlare di sanità parlo con il Ministro Schillaci. Parlerei con Giorgia Meloni solo se trovassi da parte di Schillaci. Però in anni non è stato risolto questo problema perché lei ce l'ha ben presente. Sì ma non è un problema solo dell'Abruzzo. Insomma se lo risolviamo facciamo come per il payback farmaceutico un mezzo miracolo del quale praticamente quasi tutte le regioni in Italia stanno ringraziando il Presidente dell'Abruzzo, anche quelle come diresti tu bosceviche che avevano questo problema e che non sono riusciti a modificarlo. Invece ora lo stiamo affrontando per il verso giusto. Devo dire che in questi due anni da parte del governo Meloni c'è un atteggiamento diverso di ascolto sui problemi reali e sulla volontà e capacità di dare delle soluzioni. Schillaci ha detto che interverrà, che pensa di intervenire. Schillaci sul payback farmaceutico ha pienamente condiviso e sulla mobilità passiva io ho trovato non soltanto in Schillaci ma anche nella ragioneria dello Stato un'apertura alla ridefinizione di questo meccanismo perché adesso la fatica che dobbiamo fare è quella di mettere insieme le carte per dimostrare che effettivamente è così, che c'è una distorsione di sistema e che di fronte a questa distorsione è utile modificare alcuni meccanismi per creare una maggiore equità nella distribuzione delle risorse e soprattutto rispettare intanto un primo parametro che è quello del rispetto delle persone. Un conto è che scelga, io capisco, noi siamo una piccola regione, non possiamo avere tutte le eccellenze ed è anche corretto che una persona che subisce magari una malattia, una patologia importante possa cercare il meglio che c'è nel mondo, neanche solo in Italia. Quindi se ha la possibilità o per finanze proprie o attraverso le convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale che va ribadito è tra i più evoluti del mondo, c'è troppo facile parlare male della sanità italiana, facciamoci un giro per il mondo e poi magari saremo un po' più indulgenti sulla qualità e la quantità del servizio sanitario che offriamo. Se facciamo un po' di deficit lo facciamo perché diamo molta sanità, non perché ne diamo poca e si sta facendo su questo ultimamente e soprattutto sull'Abruzzo troppa mistificazione io per quattro anni consecutivi nonostante il Covid e durante il Covid ho chiuso i bilanci in pareggio, una delle poche regioni italiane che ci è riuscito, alla fine però anche qui i nodi vengono al pettine quindi l'ultimo anno abbiamo avuto un deficit, anche quest'anno ci sarà un deficit che stiamo fronteggiando, non siamo soli, tutta l'Italia, quasi tutte le regioni hanno sforato la spesa farmaceutica, complessivamente si sfora in Italia la spesa farmaceutica per 3 miliardi e 2, quindi un miliardo e mezzo viene restituito attraverso il payback che era oggetto di quella distribuzione. Il sistema sanitario nazionale non è finanziato in modo adeguato, aumenta l'aspettativa di vita, aumentano le persone a assistere e le patologie, è un calcolo banale, bisognerebbe aumentare la spesa rispetto al PIL, il governo non l'ha fatto. No, il governo lo sta facendo perché l'incremento di spesa sanitaria, adesso non mi fare il nanetto del rapporto con il PIL perché è facile avere un rapporto più alto quando il PIL non cresce rispetto a quando cresce, se il PIL cresce il valore assoluto di quello che è stanziato in bilancio fa diminuire la percentuale, ma perché c'è un'economia che sta crescendo, il problema vero che non ci vuole dire… E poi magari abbiamo i direttori delle AS che risparmiano sui farmaci o sulla carta igienica? No, queste sono stupidaggini che vengono raccontate anche quando si fanno sulle televisioni nazionali lo scandalismo, si portano le medicine da casa come se se le fossero comprate di tasca loro, anche le medicine ammesso e non concesso, anche le medicine che si portano da casa sono fornite dalle farmacie attraverso il servizio e le paghiamo sempre noi, quindi non risparmieremmo niente facendo portare le medicine da casa, quando un medico ti deve ricoverare e ti dice portati le medicine da casa lo fa perché vuole garantire la continuità terapeutica e capire bene che tipo di terapia stai seguendo e non sprecare nemmeno una pasticca perché magari invece di lasciarle dentro casa a marcire nei cassetti le porti in ospedale dove comunque ti verrebbero date. La spesa farmaceutica ha conosciuto un'esplosione negli ultimi tempi perché dopo il covid tutti i dati dimostrano che c'è stata una maggiore richiesta di salute da parte dei cittadini. I medici di medicina generale prescrivono molti più farmaci di quanto non accadesse prima e in alcuni casi anche superando alcuni parametri di appropriatezza prescrittiva sui quali poi si è chiamato ad intervenire e quindi le nostre ASL hanno anche un confronto con i sindacati dei medici per cercare di capire se magari c'è qualcuno che esagera nelle prescrizioni così nella diagnostica. Noi abbiamo incrementato la capacità diagnostica dell'Abruzzo. Noi siamo la regione in Italia che ha le risonanze magnetiche e le TAC più moderne di tutta Italia. Solo il 28% delle nostre… Però un suo direttore sanitario, e lei lo ha giustamente sconfessato, quando è uscita una telecamera nascosta con un medico che spiegava ai pazienti che dovevano portarsi le pile da casa per l'esame… No, quel medico diceva un'altra cosa. Il suo direttore sanitario lo ha denunciato e lei giustamente ha preso le distanze, quindi vuol dire che qualche cosa… No, guarda, l'errore che ha fatto quel direttore generale è stato di aver fornito a tutto un certo mondo l'arma di distrazione di massa di dire che c'è una persecuzione in corso, anche perché se quel medico avesse parlato alla luce del sole, a nessuno lo può licenziare. Ma voi avete mai visto nel pubblico la possibilità, ma neanche nel privato, la possibilità di licenziare una persona perché ha reso un'intervista? Ma cos'è questa leggenda nera? Secondo la quale qualcuno viene licenziato perché ha detto una cosa vera? Perché se poi avesse detto una cosa vera, a maggior ragione, tu trovi un giudice del lavoro che non lo reintegra… Non lo so, non vorrei mettere la prova. Allora, intanto diciamo questo. Poi quel medico ha detto… Se uno mi dice che ti stanno rubando in casa, io non lo denuncio e dico grazie che mi hai avvisato. Quel medico non ha fatto niente di male. Quel medico ha fatto un'accusa grave sulla quale, mantenendolo anonimato, io non sono in grado neanche di verificare se ha ragione o ha torto. Quindi possiamo solo rispondere nel generico. Nel generico lui diceva mi obbligano a usare degli antibiotici meno efficaci per una ragione di prezzo, di costo, di contenimento e così via. È una fesseria grave perché tanto per cominciare non è né il Presidente della Regione, né l'assessore e nemmeno il Direttore Generale che decide quali farmaci si somministrano. Perché la somministrazione di un farmaco è una cosa clinica che decide un medico e mai, mai, mai un Direttore Generale può impedire o obbligare un medico a usare un farmaco diverso da quello che quel medico ritiene utile ed efficace per il paziente. Quindi detto questo, quel medico ha detto una assurdità che dimostra o malafede o incompetenza professionale. Questo è il punto. Nella ASR di Chieti è stato riscontrato il superamento di una certa percentuale, di un certo parametro nell'utilizzo di antibiotici che è un fatto importante perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette l'antibiotico resistenza tra le dieci questioni di allarme che vanno tenute attenzionate. Perché l'abuso di antibiotici non produce il costo eccessivo, produce la resistenza all'antibiotico e l'impossibilità di curare. Per questa ragione un clinico, cioè i dirigenti sanitari e quel medico probabilmente ha avuto un altro medico, forse più competente di lui, che ha consigliato una terapia diversa e l'ha buttata in politica facendo la sceneggiata del medico perseguitato. Quindi il danno che ha fatto Shell nel denunciarlo e che gli permette di fare la sceneggiata del medico perseguitato e non ci permette di disputere del merito. Le pile, così approfitto anche dell'occasione visto che Parenzo non ha mandato l'intervista che io ho reso dando spiegazioni anche del fatto delle pile. Quei signori che si sono portati le pile avevano ragione di protestare ma l'assurdità è che quando io ho chiesto al direttore generale perché in quel reparto chiedessero ai cittadini di portarsi le pile per l'oltre o per qualunque altro meccanismo mi ha risposto non lo so perché, perché noi le pile le abbiamo acquistate e nella ASL dell'Aquila ci sono migliaia di pile a disposizione di tutti i reparti. In quel reparto non so per quale ragione, qualcuno ha ritenuto, invece riteneva e senza che lo sapessero i suoi diretti superiori, di chiedere queste pile quando, ripeto, le pile sono a disposizione anche di quel reparto, quindi anche di quel signore e di quella famiglia e diciamo che questo incidente, ma certo, l'informazione aiuta perché quella era una malfunzione, assolutamente, e infatti, ma io non ho avuto la possibilità di farlo sapere attraverso lo stesso canale, approfitto di questo spazio, quindi all'Aquila le pile ci stanno come in tutte le ASL, non si risparmia sulle pile, si risparmia sul fatto che se io i farmaci li acquisto in maniera più professionale, più centralizzata, con la centrale acquisto, c'è tutto il lavoro che stiamo facendo e che prima non c'era, perché in questa regione cinque anni fa non c'era una centrale acquisti, in questa regione cinque anni fa non c'era il CUP regionale, tu dovevi telefonare a quello provinciale e se non trovavi posto a quello provinciale andavi a cercare, facevi altre tre telefonate prima di trovarne uno, queste sono le cose che stiamo facendo in questi anni, non si arriva all'obiettivo in un anno solo e soprattutto quando sei funestato da un'emergenza pandemica che ha impegnato e distratto la maggior parte delle risorse per la maggior parte del tempo, però in questo quadro se io ho fatto un po' di deficit è anche perché abbiamo acquistato le TAC e le risonanze magnetiche che prima avevano più di dieci anni di vita e oggi gli strumenti tecnologici che hanno più di dieci anni di vita sono obsoleti, sono antidiluviani. Io le volevo chiedere su un tema di attualità che è stato posto dalle opposizioni, quello del rinnovo con commissariamento dei vertici dell'Ara per attività produttive, che secondo le opposizioni è diventato un braccio esecutivo del potere della Giunta e sottratto anche a tutti gli strumenti di vigilanza da parte del Consiglio regionale e quindi andrebbe riportata questa realtà che poi gestisce una gran parte. Il Consiglio regionale ha tutti gli strumenti di vigilanza, forse qualcuno dell'opposizione si lamenta della mancata lottizzazione che non gli fa avere un posto in Consiglio di amministrazione, tutto qui. Il commissariamento è comunque un fatto temporaneo, reso necessario anche dal fatto che il CDA uscente era più di un anno che era in prorogazio e quindi bisognava restituire ad Arap una condizione, ed era il Consiglio regionale, non è il Presidente dell'Aggiunta che non ha questo potere a non aver esercitato le sue funzioni per rinnovare questo organo. In più l'oggetto vero del commissariamento è il fatto che grazie all'iniziativa politica del sottoscritto, che ha risolto un problema che durava da quasi mezzo secolo e cioè quello degli espropri dell'asse attrezzato che avevano messo in ginocchio il consorzio industriale Chiedi-Pescara, quello dove anche questa sede di fatto insiste. Abbiamo messo a disposizione nel bilancio dello Stato 14 milioni con i quali stiamo chiudendo una lunghissima querelle che aveva creato un debito ingestibile e anche difficilmente definibile nella sua quantificazione. Alla chiusura di questa partita degli espropri rimane un pezzo di debito residuo che non dissimile da quello che il resto dei consorzi industriali confluiti nell'Arap si portavano in dote e quindi questo ci consente finalmente di completare un percorso iniziato oltre dieci anni fa con la costituzione del consorzio unico, che poi appunto unico non era perché quello della Val Pescara era rimasto fuori per le ragioni che ho appena spiegato. Oggi possiamo riunificare l'Arap con il consorzio della Val Pescara e questo passaggio è un passaggio che necessita di una piena assunzione di responsabilità e di una gestione anche snella, efficace, pronta di questa fase di transizione che dura il minimo indispensabile. Nel frattempo questo commissariamento è stato accompagnato dal disegno di legge che la Giunta ha approvato e al Consiglio regionale per costituire appunto il nuovo soggetto nato da questa incorporazione, da questa fusione. Per questo stimolo semmai il Consiglio regionale ad assumere pienamente i propri poteri per scrivere la legge, arrivare quanto prima a una legge che costituisca questo nuovo organo e questo sicuramente produrrà un'accelerazione dei tempi e una maggiore contrazione dei tempi necessari all'esistenza di un commissario che peraltro, lo voglio sottolineare, è un tecnico, è un dirigente dell'amministrazione, non abbiamo preso personale esterno, non è personale politico riciclato dentro l'azienda. Allora dall'opposizione dicono che questa è la nuova cassaforte della Giunta regionale. Io non capisco semmai una cassaforte di debiti, quindi sono bagianate che vengono dette per mistificare e far credere che esista qualcosa del genere. Stiamo parlando di un'azienda, ancora oggi purtroppo caratterizzata da una mole importante di debiti, quindi non c'è nessuna cassaforte, che viene commissariata da un avvocato dell'avvocatura regionale, e quindi un tecnico che ha le caratteristiche professionali per affrontare nella maniera migliore e più imparziale e più terza rispetto a chiunque, a meno che non si voglia dire, e questo però sono io che allora lancio la provocazione, vorrei chiedere all'opposizione se considera l'avvocato Mario Battaglia un manutengolo del Presidente della Regione e una persona non degna di fiducia nella sua azione di commissario. Se è questo il giudizio che hanno dei nostri dirigenti e dei nostri tecnici ce lo facciano sapere perché io proprio a dimostrazione del fatto che non sto facendo nessuna opera di poltronificio né di lottizzazione sto affidando questa operazione delicata e complessa a un dirigente dell'amministrazione regionale che farà protempore anche questo con nessun aggravio di costi per l'amministrazione e che ci consentirà di avere una struttura più agile, più moderna, più competitiva, più capace di affrontare le sfide necessarie a rendere i consorzi industriali capaci di offrire servizi alle nostre imprese. Io voglio portare di fronte un dilemma, cioè farla litigare con un Ministro del suo Governo oppure dare una delusione a una parte dei suoi elettori. Lei si presenta nello spettro a destra come un uomo pragmatico, non ideologico, lo abbiamo visto anche adesso, però c'è stato un caso che ha molto colpito. La Ministra Roccella ha chiesto ai medici del Sistema Sanitario Nazionale di denunciare tutti i coloro pazienti che secondo questi medici avrebbero fatto ricorso a una procreazione per altri. Ora mi ha molto colpito il cosiddetto utero in affitto, il caso di una signora raccontato alla stampa, era una coppia perfettamente eterosessuale, marito e moglie legittimamente sposati, la signora aveva una malformazione per cui non aveva l'utero, hanno fatto ricorso in un paese in cui era legale a questa forma di gravidanza l'utero in affitto e quando sono entrati nel nostro paese hanno subito addirittura l'ispezione di poliziotti e sono andati a chiedere ai vicini di casa se avevano visto la signora in stato interessante. Allora perché mi colpisce questo? Perché è un po' una storia, un paradigma che disegna un profilo identitario, una persona proprio al di sopra di ogni sospetto, il professor Grattini ha detto io sono uno che è contrario all'utero in affitto o la gravidanza per altri, però mi fa veramente raccapriccio che un ministro chieda di denunciare un paziente, per un medico è un controsenso e poi c'è proprio un'invasione della privacy che non spetta a noi. Allora lei si sentirebbe di dire, da uomo di destra che si dichiara e si comporta da moderato pragmatico, ministra Roccella, lei ha fatto veramente una follia a dire denunciate dei pazienti. Io non conosco bene i contenuti di questa iniziativa del ministro Roccella, quindi potrei come dire... No, non mi dica così. No, è la verità, è la verità, purtroppo è la verità. Devo dire che l'attività amministrativa produce quello che io chiamo un alfabetismo di ritorno che sei concentrato sui tuoi doveri di amministratori, quindi a volte scopro i casi che hanno infiammato quindi a caso boccia l'ho scoperto a caso finito. Però sappiamo che l'antefatto di questa vicenda è una legge sostenuta da una parlamentare di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, che ha reso, questo è il tema, anche quel reato un reato universale, quindi perseguibile anche fuori dal paese. Io questo lo condivido pienamente. Esatto, però quando si arriva a questa applicazione molti che l'hanno votata e sono laifi di Forza Italia, che sono magari delle persone non ideologiche, hanno votato a sinistra, dico oddio, Marsilio mi manderebbe il medico spione a casa e il poliziotto. Però bisogna capirsi se poi le leggi devono essere rispettate o se bisogna cercare diciamo le scappatoie per eluderle. Però prima non era illegale? Prima non era illegale la dichiarazione. E quindi non aveva commesso nessun reato? Certo, da questo momento in poi è illegale, è chiaro, chi lo ha fatto prima ha potuto approfittare, ha potuto eludere la legge nazionale andando all'estero e rivolgendosi all'estero. Quindi lei farebbe scudo con i medici abruzzesi di fronte a una richiesta da Roccella? No, qua c'è Marsilio, non si passa? Allora, chiariamoci, qualunque persona che sia medico, che sia carabiniere, che sia operaio, che sia impiegato, è a conoscenza di una notizia di reato, è tenuto per legge ad informare l'autorità competente. Su questo siamo d'accordo o no? Oppure stiamo difendendo il principio? Allora è d'accordo con la Roccella, non l'aveva letto ma è d'accordo. No, perché ti posso controinterrogare, cioè tu difendi il principio che una persona a conoscenza di una notizia di reato si tiene il segreto. Ma quel reato non l'aveva commesso perché a questo bambino era nato prima che fosse votata questa legge. Stiamo parlando dal momento in cui nasce il reato, dal momento in cui è il reato, se è il reato, chi è a corrente di una notizia di reato è tenuto, ma che sia medico o no, tranne il prete inconfessionale, insomma è tenuto a dare notizie all'autorità competente. E questo è il punto. E quindi i medici vengono invitati da un potere politico a denunciare dei cittadini? Se un'attività, perché oggi la legge dice il contrario, cioè dice al medico che se il medico è a conoscenza di una notizia di reato, il medico non deve informare l'autorità competente del fatto che un cittadino ha commesso un reato? No, spiegatemelo, perché se la roccella sta dicendo ai medici di fare una cosa diversa con una malformazione, ha avuto un bambino, io non entro nelle vite delle persone, però questa è un'idea, perché poi tutte le leggi e tutti i casi conoscono i casi limiti. Io personalmente, e credo anche lei, noi non amo entrare nelle questioni civili, etiche e giudicare per conto di persone che non conosco, come bene ha detto, di cui non so le scelte e magari desiderano fortemente avere un figlio e non hanno commesso un reato nel momento in cui lo facevano. Tutti quelli che sono già nati, sono nati prima di questa legge. Comunque, sono d'accordo, le leggi non sono mai retroattive. Io la conosco come persona laica, so che lei non vuole giudicare le leite dei cittadini Le leggi non sono retroattive e non credo che neanche questa lo sia, però dal momento in cui esiste una legge che dice che quello è il reato, se tu sei a conoscenza di una notizia di reato, sei per legge tenuto a denunciarlo, poi puoi non farlo ma te ne assumi la responsabilità. Ma è già così, non è che la roccella ha inventato l'acqua calda, funziona così da sempre e per sempre. Altrimenti dovremmo stabilire il principio secondo il quale chi è a conoscenza di una notizia di reato non lo deve fare, può essere connivente con... Vediamo che i medici abruzzesi si tappiano le lecchie in questo momento perché non mi sento molto sicuro. Allora, siccome io inizio a preoccuparmi, siamo a circa un'ora di transizione... Beh, certo io ti potrei dire scusa, però chiariamoci fino in fondo. Puoi essere d'accordo o no sul fatto che quello sia reato universale. Però se la legge dice che è reato, è reato. Questo è un punto sul quale credo che possiamo essere laicamente d'accordo tutti quanti. Se domani una persona va da un medico e gli chiede assistenza per andare all'estero o in Italia e fare questa pratica che è vietata dalla legge, secondo te quel medico che deve fare? Si deve commuovere di fronte al caso umano della persona che ci tiene tanto ad avere il figlio e la vuole avere anche con una forma che la legge prevede come reato? Oppure gli deve dire a questa persona guarda ci sono altre forme per avere figli? Io l'ho adottato un figlio, non ho la possibilità per ragioni genetiche, personali, di poter procreare naturalmente e sono felice così. Il figlio l'ho adottato, ho risolto il mio bisogno di paternità in questa maniera. Non ho chiesto a una donna povera nell'altra parte del mondo di partorire un figlio e di gestirlo nove mesi, magari pagata per questo sfruttando una condizione di estrema povertà, perché la procreazione assistita non può essere guardata sempre sul lato della povera coppia che non riesce ad avere il bambino e allora tutti ci commuoviamo di fronte alla storia a lieto fine che finalmente avranno un pupo da spupazzare. Io guardo invece il lato oscuro di questa pratica ed è quello che Carolina Varchi, Giorgia Meloni, il governo italiano ha voluto affrontare senza ipocrisia sul fatto che nel 99% dei casi, e non mi convincerete mai del contrario, le donne povere del mondo fanno i figli per le persone più agiate e ricche e benestanti del mondo ricco che si possono permettere questa pratica che io considero disumana. Si sa che in questi casi, proprio in casi di malformazione, è spesso un parente che fa questa cosa, una sorella, una parente stretta, quindi voi l'avete vietato anche in questo termine spesso. Sì, in Canada per esempio è possibile solo in questo caso dal punto di vista legge, comunque apprezzo moltissimo la sua scelta, il tema grande che questo governo pone e che la politica pone a tutti e che non sempre le scelte che piacciono a me e a lei sono quelle che devono piacere a tutti. Io veramente l'ammiro e farei esattamente quello che avrebbe fatto lei, però non pretendo sempre di proiettare il mio desiderio, le mie scelte come canone di legge per tutti. Esatto, vale anche il contrario perché noi possiamo accettare che il desiderio di alcuni di avere figli ad ogni costo si traduca in quelle pratiche di sfruttamento o che possono produrre sfruttamento tranne il caso del parente che si mette a disposizione per farsi inseminare a favore del proprio parente. Quindi in questo caso lo consentirebbe? No, perché è un limite, è difficile poi stabilire dove si piante il limite, se devi essere parente, amico, conoscente, devi avere un reddito, sì perché è difficile mettere i confini e penso che vadano innanzitutto protette le persone più deboli e che le pratiche per avere figli in un'altra maniera esistono, sono percorribili e possono essere semmai semplificate quelle pratiche per permettere una genitorialità meno problematica alle persone che hanno difficoltà. naturali. Bene, io sono quasi preoccupato perché c'è circa un'ora di trasmissione e penso sia preoccupato anche il Presidente Marsilino, non ancora abbiamo parlato di Cervi, mi pare strano, questo fatto è un po' attivico, però io questa altra domanda la faccio a Luca a te leggi, perché ho letto un suo editoriale che ha fatto molto discutere, in cui tu sostanzialmente hai argomentato che la Regione ha una sua legittima posizione e va assolutamente rispettata rispetto al discorso del contenimento del numero dei Cervi. Siccome anche dal mondo ambientalista c'è stata qualche riflessione non molto tenera rispetto alla tua posizione… Sì, ho detto due cose, di cui una è esattamente quella che hai detto e mi sta a cuore anche proprio nel disegnare l'identità che io penso si debba dare all'informazione che facciamo, cioè l'idea, se io non ho le stesse idee su un tema con il Presidente Marsilio non devo necessariamente pensare che lui stia commettendo un atto non legittimo se invece persegue un'altra finalità. Nel caso dei Cervi, un atto amministrativo, siccome la competenza della Regione sul calendario venatorio, su questo tipo di normativa è acclarata ed è incontestabile… Attestata anche dal Consiglio di Stato. Io non credevo che la via fosse dire… No, Marsilio sta commettendo una scelta illegale sbagliata e non li compete, quindi difendo la sovranità della Regione, chiunque ci sia, nel prendere le scelte che considera legittie. Non solo, abbiamo parlato a lungo, quindi so che lui è arrivato a questa determinazione in Consiglio di Stato, adesso ha fatto una sospensione che serve a preservare il provvedimento nel caso si arrivasse poi a un giudizio di ultima istanza diverso, quindi è quasi un provvedimento cautelativo. Però volevo andare sul tema dei Cervi, quindi il tema è che lui ha studiato il problema, è arrivato a questa soluzione e noi dobbiamo soltanto raccogliere opinioni diverse o utili o compatibili e cercare di capire se si arriva a una soluzione ottimale. Posso aggiungere che ci è arrivata tutta l'Italia e tutta l'Europa e tutto il mondo, cioè in tutto il mondo dove esistono Cervi che si moltiplicano con questa capacità riproduttiva, una specie che non corre alcun pericolo di estinzione o di sopravvivenza, si è dovuto intervenire così. L'Abruzzo è solo l'ultimo, l'ultimo è peraltro con forti limitazioni. È vero, però la competenza è regionale perché ogni regione ha un suo ecosistema e l'Abruzzo è uno particolare che è fondato sui parchi. E io mi chiedo perché questa campagna nazionale da parte di tutte le associazioni ambientalistiche è una campagna che non hanno fatto contro la Toscana, contro il Veneto, contro la Lombardia, contro il fiore di Venezia Giulia, contro i miei Romani, contro il Lazio, contro tutte le regioni che adottano piani di contenimento della fauna selvatica, di prelevamento. Alcune di queste regioni non fanno nemmeno i piani, lo mettono direttamente nel calendario venatorio. È vero. Cioè è liberamente cacciabile dentro. Non tutte le regioni hanno la bellezza e la ricchezza dei parchi di cui questa regione gode, anche con la possibilità del Cunisepe. E non si cacciano nei parchi, tra le limitazioni. Dentro i parchi non si cacciano. E qui c'è il secondo punto che diventa automaticamente una domanda, in parte ne abbiamo anche discusso, cioè mi sembra che ci sia un punto di verità in una cosa che dicono alcuni obiettori, oppositori di questa delibera. Cioè che se si uccide e basta, si rischia di avere una moltiplicazione nell'anno successivo dovuta alla filiazione che non viene automaticamente ridotta. Allora il tema è, si può pensare di sterilizzare in modo selettivo alcuni capi per impedire di arrivare all'esecuzione, all'uccisione del capo e per consentire di contenere le nascite e quindi non avere lo stesso problema fra un anno o fra due? Credo che sia tecnicamente quasi impossibile. Intanto dovremmo... Si fa però? Nei parchi americani si fa? In Europa si fa? Nei parchi americani non so se si faccia. In Italia trovatemi un numero sufficiente di chirurghi veterinari che si sentono la responsabilità e che abbiano anche l'abilità. Ma non perché siano degli asini i nostri chirurghi veterinari, ma perché è una pratica che non viene praticamente fatta da nessuna parte e quindi mentre i nostri veterinari sono abituati a intervenire sui cani, sui gatti, sulle mucche, sugli asini, sui cavalli, insomma su una serie di animali, intervenire su un cervo non è esattamente una pratica che fanno tutti i giorni, quindi forte rischio. Ma lei ha verificato che non si può fare? Ne ho parlato con i veterinari, certo. Intanto trovatemi il numero di veterinari pubblici del servizio sanitario o convenzionati, insomma un numero di veterinari disponibile sufficiente a poter fare un intervento così massiccio. Si tratterebbe di fare centinaia di operazioni del genere. Bisogna prima individuare il cervo, anestetizzarlo. L'anestesia su un animale, su una fauna selvatica non è esattamente anche questa, una pratica molto abituale, quindi forte rischio anche di ucciderli, nonostante le buone intenzioni e la responsabilità anche professionale di chirurghi veterinari che interverrebbero su una specie rispetto alla quale raramente intervengono, tant'è che quando la forestale trova un animale di quel tipo, cervi, caprioli, taini, feriti e seriamente feriti, li abbattono, non è che li curano, non è che li portano nella clinica veterinaria. Io lo dico anche con dolore perché io e te siamo una generazione cresciuta con i film di Walt Disney e credo che anche noi abbiamo pianto da bambini a vedere bambi, però poi si cresce e si deve fare i conti con la realtà e la realtà è questa, tutto quello che ci viene rimproverato, ci sono tante altre cose che vanno fatte e abbiamo fatte le recinzioni elettrificate, i contributi. La regione Abruzzo lo riconosce Michela Brambilla che è una persona rispettatissima dal mondo animalista sulle sue, riconosce che l'Abruzzo effettivamente è la regione forse tra le più veloci in Italia nel risarcimento dei danni da fauna selvatica, ma ci sono dei limiti oltre i quali non riusciamo ad andare perché quanti milioni di chilometri di recinzioni elettrificate dovremmo fare dentro i parchi poi dove le recinzioni dei campi coltivati comportano un problema paesaggistico, ambientale, materiale e così via. Presidente, invece una transumanza organizzata nelle zone che potrebbero accogliere questi esemplari in esubero? Su questo io sono aperto a soluzioni, un consigliere di opposizione che vive in un comune appunto che ha una riserva dice sono pronto a prenderne 40, naturalmente la prima battuta del fatto è perché no 400? Perché evidentemente c'è un problema di sovrappopolamento e quando si supera un certo numero allora intanto quel comune mi organizzi, se riesce a farlo, cioè se riesce a organizzarlo vada a catturare 40 cervi, se li porta al suo comune e io diminuisco da 469 a 429 il numero poi se altri comuni... Perché deve essere sarcastico? Oppone una soluzione, vatteli a prendere, non è necessariamente un dialogo istituzionale No, ma perché è facile parlare, cioè è facile dare soluzioni di buon cuore è chiaro che Marsiglio contro Bambi vince sempre Bambi, quindi più ne parlo e peggio è però io non mi sottraggo alle questioni e sono consapevole dell'impopolarità di questa scelta quindi anche quando mi si dice ma tu stai per la lobby dei calciatori ma sarei un cretino se io facessi un conto del genere Anche Telese con la lobby dei calciatori Perché i calciatori sono talmente pochi in confronto a quelli che amano i cervi che io non potrei mai dal punto di vista politico fare un errore così marchiano il mio problema è che io ho delle responsabilità anche penali ed erariali perché tutte le volte che qualcuno investe un cervo o un cinghiale con la macchina io mi ritrovo a firmare la delega all'avvocatura per andare a difendere la regione dal fatto ma quello non lo eviteremo mai in Toscana è pieno di cinghiali che abbattono auto e non è il contrario però io in 50 anni, tu stai percorrendo la 24, io la percorro da 50 anni quando sono bambino io non ho mai avuto il problema dei cervi dentro l'autostrada negli ultimi anni noi abbiamo il problema dei cervi che attraversano l'autostrada solo nell'ultimo mese due incidenti dentro l'autostrada e stiamo spendendo decine di milioni decine di milioni nella messa in sicurezza non c'è solo il traforo, c'è tutto il tragitto chieda a Corsini e a Strada dei Parchi quante decine di milioni stanno mettendo in cantiere per alzare le recinzioni e fare in modo che c'è quindi evidentemente le politiche ambientali e a favore della fauna selvatica in Abruzzo funzionano talmente bene che queste specie una volta confinate in numero ridotto all'interno dei parchi e delle riserve sono uscite da questi confini, si stanno moltiplicando, impattano sulle attività antropiche e a volte lo fanno in maniera, non solo se noi avessimo la piena garanzia che non si fa più un incidente che risarciamo tutti i danni in agricoltura anzi che non si mangiano il grano, il frumento appena nato perché abbiamo tutte le migliori recinzioni del mondo esisterebbe a monte un altro problema che è quello vero ed è quello principale che quando una specie diventa in sovrappopolazione invade tutto il territorio mette a rischio le altre specie noi abbiamo specie delicatissime il camoscio, l'abruzzo, l'orso marsicano che lì davvero ce ne sono poche decine di esemplari non 10.000 come i cervi un cervo adulto mangia dai 10 ai 20 kg di vegetazione al giorno un branco di cervi sottrae dentro i boschi tonnellate di vegetazione al giorno se si moltiplicano e sottraggono alimentazione e territorio alle altre specie si crea un problema di equilibrio ambientale come me che una cosa fra l'altro di cui lei non è responsabilità perché è venuta prima del suo mandato quando si è ripopolata la specie dei cinghiani si è introdotto fra l'altro una specie sbagliata che era una variante asiatica non una variante europea un errore maturale poi si è andati ad un errore maturale un errore maturale di cui ancora paghiamo le conseguenze anche il tassello dell'agricoltura no non solo quando si è proceduto all'abbattimento si sono abbattuti ovviamente non distinguendo dei capi branco e questo ha prodotto il fatto e non conoscevamo che è aumentata la proliferazione perché c'è una sorta di controllo naturale delle nascite potrei anche aggiungere che smettendo il luogo comune secondo il quale noi lo facciamo per fare contenti i cacciatori che i cacciatori cacciano molte migliaia di cinghiali in meno di quelli che gli commissioniamo e che oggi l'obbligo di abbattere i cinghiali ci viene dato sopra di me dal commissario alla peste suina che ha dato a tutte le regioni degli obiettivi di abbattimento per contenere il rischio dell'epidemia e non ci riusciamo a farli ammazzare tutti risolvere il problema non funziona cioè nel senso può produrre addirittura un aumento delle nascite noi stiamo sperimentando con l'istituto zooprofilattico anche le gabbie abbiamo cominciato ad applicarle in alcune riserve stanno dando dei risultati interessanti quando avremo diciamo finito il test finito il test e la sperimentazione e se confermano che i risultati sono positivi moltiplicheremo questa modalità di cattura noi siamo arrivati in chiusura di questa chiacchierata non so se Luca aveva qualche domanda io volevo fare così come in apertura intanto riferimento agli eventi che riguardano questa regione perché facciamo gli auguri oggi c'è stata l'audizione anche per il cammino di Pescara come capitale italiana dell'arte contemporanea perché è in Lizza con altre anche queste molto importanti realtà della cultura italiana e quindi dopo l'Aquila Presidente lei si auspica che anche Pescara possa ottenere questo risultato ma certo il nostro Assessore alla Cultura è lì insieme alla Delegazione del Comune la sosteniamo con convinzione abbiamo già approvato la norma che eventualmente come già è capitato per l'Aquila noi metteremmo altrettanto dei fondi che dà il Ministero per sostenere questa cosa e se ci fosse questa sovrapposizione sarebbe per noi a motivo di grande orgoglio cioè vincere due sfide importanti con le nostre due principali città tutte e due nel campo della cultura e dell'arte e sarebbe una spettacolare integrazione del programma di L'Aquila capitale della cultura con quello di Pescara capitale dell'arte contemporanea e sarebbe un anno davvero splendido per scoprire l'Abruzzo e scoprirlo anche sotto la veste migliore quello dell'arte e della cultura che questo territorio sa esprimere bene facciamo tutti il tifo per Pescara naturalmente ci salutiamo ricordando a chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto ora che gran parte di questo interessantissimo e vivace incontro tra il direttore del centro Luca Telese e il presidente della regione Marco Marsiglio sarà domani ovviamente in edicola con un ampio spazio sul quotidiano d'Abruzzo grazie arrivederci correte svuotate le edicole aiutate gli edicolanti eh sì sì gli edicolanti e noi vi facciamo questo lavoro anche un po' grazie arrivederci a presto